ciao a tutti ragazzi come potete vedere oggi siamo qui con i camel burger gli hamburger di cammello o dromedario come potete vedere sono una cosa molto tipica australiana non sono molto calorici e adesso ci spostiamo ai fornelli per cuocerli ancora una volta sono riuscita a non fare danni e quindi non ho bruciato nulla andiamo a vedere come all'interno e adesso assaggiamo in realtà anche qui trattandosi di carne rossa il sapore è molto simile a quello di un hamburger di manzo non c'è molta differenza è qualcosa di particolare di tipico australiano ovviamente che secondo me almeno una volta nella vita va provato se passate dall'australia detto questo in descrizione vi lascio il link a tutti i miei social in particolare vi ricordo di seguirmi sia su facebook che su instagram e magari anche su periscope visto che ho in programma di fare qualche live mettete un like e commentate il video e condividetelo se volete con i vostri amici detto questo io finisco il mio pranzo e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti